Ciao a tutti, oggi parliamo di superfood, questi alimenti miracolosi che periodicamente escono sul mercato. È vero che sono miracolosi? Bisogna assumerli? Fanno veramente bene? Lo scopriremo in questo video. Se volete leggere un articolo interessante vi rimando all'articolo di Wikipedia in inglese su superfood che è fatta abbastanza bene e descrive bene che cosa sono questi cibi, ne illustra anche un po' la storia facendo qualche esempio di alcuni di questi cibi, l'evoluzione sul mercato di questi cibi, il consumo e le ricerche scientifiche che dimostrano o non dimostrano quello che i venditori promettono. È un articolo in inglese e a mio parere è ben fatto come spesso accade per gli articoli di Wikipedia in inglese. La definizione di superfood non è ben chiara, comunque tendenzialmente in linea di massima si può dire che sono cibi molto ricchi di particolari nutrienti specialmente di solito antiossidanti, vitamine, minerali e che sarebbero particolarmente benefici per la salute o addirittura sarebbero indicati per migliorare o risolvere alcuni stati patologici. Le prime volte che mi sono imbattuto in questi cibi mi sono chiesto perché sono definiti superfood, cioè perché fanno bene alla salute e di solito la motivazione è perché contiene tanto di questo elemento, dell'elemento X o dell'elemento Y che una volta è la vitamina C, l'altra è la vitamina A, altre volte sono antiossidanti. Ora per quanto riguarda per esempio i cibi di ricchi vitamine mi sono sempre chiesto ma per quale motivo quel cibo dovrebbe farmi tanto bene che io sul mercato trovo gli integratori che contengono decine o centinaia di volte quella sostanza. Quindi per quanto riguarda le vitamine la cosa non ha senso non venitemi a dire che le vitamine contenute nei cibi sono diverse da quelle sintetiche perché non è vero, le molecole sono sempre quelle se devono far bene le une devono far bene anche le altre e anche il discorso della sinergia non ha senso perché non vedo perché io non posso costruire un integratore che contiene esattamente le proporzioni delle vitamine contenute nel cibo in altri casi ci sono degli elementi contenuti nello specifico in quel cibo ora bisogna andare a vedere poi gli studi che sono stati fatti che dimostrano, che devono dimostrare che quell'elemento nelle quantità contenute in un consumo normale di quel cibo hanno un effetto così benefico per la salute ebbene se si vanno a vedere gli studi spesso sono studi molto leggeri o studi fatti in vitro non confermati poi dagli studi su umani e quindi spesso e volentieri si va a vedere che poi le basi scientifiche non esistono quindi sostanzialmente i superfood spesso e volentieri sono dei cibi esotici perché ovviamente non devono essere disponibili facilmente sul mercato altrimenti come ci si fa a fare i soldi se io dico che le arance sono dei superfood dico bene grazie vado a comprarle a un euro e mezzo al chilo e farò forse un favore a qualche produttore di arance siciliane ma è difficile arricchirsi in questo modo se invece io dico che le bacche di Acai che sono prodotte in Sud America e bisogna importarle e poi le metto dentro dei sacchettini da 30 grammi e le vendo a un prezzo 10 volte superiore a quello che le pago io ecco che ci faccio i soldi però bisogna che il cibo sia un cibo esotico che non sia tanto disponibile sul mercato deve essere un cibo nuovo un altro esempio eclatante è il superfood del momento ovvero il miele di manuca il miele di manuca è un miele effettivamente particolare costa veramente tanto produrlo e questo è già un elemento che lo rende papabile per diventare un superfood inoltre sono stati fatti degli studi che vedono che effettivamente contiene una sostanza antibatterica e quindi potrebbe avere delle proprietà antibatteriche cioè sostanzialmente se lo mettiamo sulla ferita questa ferita non si infetta ma anche se mettiamo un disinfettante che possiamo comprare a 3 euro in farmacia la ferita non si infetta quindi poi sono state inventate delle altre proprietà qui dimostrate da studi molto leggeri o proprio non dimostrate che riguardano il suo consumo per bocca moralmente come tutti gli altri mieli ed ecco che questo miele è in vendita a 50 euro al vasetto di 250 grammi quindi stiamo parlando di cifre che vanno vicino a 10 volte tanto quello che costa un altro miele è normalmente presente sul mercato questi costi hanno assolutamente una giustificazione perché effettivamente il miele di manuca costa tanto produrlo però non ha alcuna giustificazione per quanto riguarda la sua valenza salutistica e invece vi garantisco che tantissimi vogliono il miele di manuca è richiestissimo in tutto il mondo c'è un enorme mercato dietro questo miele perché? perché è considerato un superfood ha ragione? no però così è quello che vi consiglio io è quando sentite parlare di superfood alimenti miracolosi che fanno benissimo voi passate oltre fatelo entrare in un orecchio fatelo uscire dall'altro e non vi mettete in testa di acquistare papaye fermentate bacche di hacai e tutte queste diavolerie che non hanno dietro una base scientifica che dimostri il fatto che il loro consumo sia effettivamente benefico per la salute il mio consiglio è lasciate perdere purtroppo l'alimentazione è fatta da tutto quello che mangiamo è la nostra dieta nel complesso che determina la sua correttezza o meno e il suo effetto a lungo termine sulla salute non esiste nessun cibo che consumato singolarmente possa darci chissà quali vantaggi tenete conto che i superfood esistono dall'inizio del 1900 quando le banane venivano promosse per le loro particolari proprietà quindi non stiamo parlando di niente di nuovo ci saranno sempre nuovi superfood che arrivano sul mercato per fare soldi sul fatto che la gente vuole sentirsi dire che basta consumare questo o quel cibo per avere un effetto benefico sulla salute